...non si sa, e certo sono i loro, almeno quattro, mentre c'è anche l'altro da lì, non sono i dati figli arregliani, e chi invece sostiene che i colpi siano partiti proprio da libertà, per cui poi c'è lì, lo stancho sono la moneta di scampo, per vendere cara la vera. Sì, ma non va di là che hanno...